un'altra parte Grazie a tutti. 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 Quello non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo mai, a meno che li facciamo dentro le righe col flessibile. Sì, però rischi di ripestarci dentro, ascolta. Dipende dalle volte. Vai, vai, passa, passa. Mi dà tanto del vicino, eh? Eh, ma prendi il buco sotto, eh? Perché vedi che ho preso il buco, mi si è fermato, dopo l'ho ripresa al pelo, eh? No, c'è quel buco là che prendi. L'acqua è andata giù, come sta? Eh, scusami. Non è corsa di là. Perché vedi che corre in giù l'acqua. Da dove arriva? Eh, arriva da sotto. Allora, arriva da sotto, sì, eh. Mmh, col Montesa, eh. Mmh. Ma non ti devi fermare, segui. Non ci arriva lui qua, eh? Devi prenderlo là, eh? La seconda col Montesa, che terza? Seconda! La terza è arrivato come me, morto. Deve andare lì, Jacopo. Perché il buco lì che può fregarlo, eh, ragazzi. Opla, vedi? È un sasso nel buco? Eh, è l'unica, chiuderla. Ma l'acqua, dove cazzo arriva? Da sotto. Vedi che arriva da sotto. No, ma arriva da sotto, senti qua. No, ben pieno, però. Vuoi un po' di cemento? Un po' spacchetti se non stai dietro, eh. No, devi... Tante le spiega. No, vedi il cazzo. Così è meglio, eh. Vai, Marco. Aspetta che diamo giudici. Vai, Marco. Adesso puoi fare. No. La mia, hai visto come sono arrivato su? Ma io la devo... Con la tua terza... Uh-huh! Secondo me cambia la moto. Eh? No spettacolo. Che vuoi? Dentro qua, sei sicuro? La perdi? Mi arriva anche il nono. Dopo si lamenta che consuma. Un po' di quanto è arrivato. Sei lì che ci ha preso tutto, dio! Amor, amor! Eh, oi, ha preso quello in Montesa. Grazie a cazzo, la mia moto? Questo tirati via, non è importante. Questo no, tirati via perché ti schiaccia. Questo non te ne frega niente. Bra, spostagli, spostagli di tu. Mettili per la lunga. tanto ti viene passato quel pezzo lì è passato tutto se non mettevi i tronchi devi tagliare devi salire di là Jacopo fai prima le ho detto di salire di là che fa prima